Danius Cairelis del team Giordana Cipollini Tutto Sport ha vinto la quarantesima edizione della Nove Colli con il tempo di 5.53.18, media dei 34,81. 12.000 partecipanti a numero chiuso, 3.840 metri di dislivello, tanto sole pubblico per la vittoria di Cairelis che si è imposto sui 210 km davanti a Gianluca Cavalli e Matteo Cappè, entrambi del team FRV Cicli Maggi. Al quarto posto Alfonso Falzarano del team par pre-guru, quinto Ivan Fanelli, Giordana Cipollini Tutto Sport. Tra le donne vittorie di Fabiana Luperini, una delle più grandi campionesse di sempre, giunta al ventesimo posto assoluto. Collateralmente a questa manifestazione si è svolta la Nove Colli Running che sullo stesso percorso vede fronteggiarsi atleti in quella che è una gran fondopodistica record di ben 200 km, il cui tempo massimo all'arrivo è di 30 ore. Collateralmente a questa manifestazione si è svolta la Nove Colli Running. Collateralmente a questa manifestazione si è svolta la Nove Colli Running. ckenzie a tutti! Sto milano la